Quella di oggi è stata una visita importante per vedere la Lombardia che funziona, la Lombardia del lattiero caseario. Così l'assessore all'agricoltura della regione Lombardia Gianni Fava che proprio ieri ha visitato l'azienda, la latteria soresina nel Cremonese. Sentiamo. È una visita importante a vedere la Lombardia che funziona. C'è una Lombardia che funziona, la Lombardia del mondo lattiero caseario, del comparto agricolo in generale e delle organizzazioni che stanno intorno a quello che solo ai soggetti meno attenti risulta essere ancora il settore primario di un tempo. Oggi l'agricoltura è evoluzione industriale, è capacità di sviluppare sistemi e processi che ci proiettino in giro per il mondo. Questo è un esempio che dovrebbe servire a tutti di come alla fine l'unione delle forze e la concentrazione degli sforzi dia grandi risultati. Loro sono stati molto bravi e sono riusciti a contenere i danni del calo dei consumi interni puntando sull'internazionalizzazione sulla quale ci sarà ancora molto da fare. Abbiamo ricevuto richieste in questo proposito stamattina che cercheremo come sistema Lombardia di prendere in seria considerazione con delle azioni concrete che abbiamo intenzione di sviluppare da qua a fine anno con una programmazione seria sul versante di internazionalizzazione. Serve internazionalizzazione, serve capacità di fare impresa, questo è quello che sia un esempio per tutti.